cari telespettatori un'altra importante puntata delle interviste di qualità protagonista è Davide Casaleggio della Casaleggio Associati che voi sicuramente conoscete e ricorderete perché è stato un caso scuola diciamo così da cui è nato poi si è sviluppato il Movimento 5 Stelle fino ad arrivare al governo del paese quindi dimostrò la potenza della tecnologia ben usata in una società moderna come può incidere quali risultati può portare Casaleggio è intervistato per un libro che ha scritto molto molto interessante davvero poi sentirete nel suo intervento le caratteristiche di questo libro che si chiama gli algoritmi del potere cioè come l'intelligenza artificiale riscriverà la politica e la società tema di grande fascino Casaleggio fa alcune valutazioni secondo me di grande intelligenza che ci devono far riflettere questa intervista è avvenuta nell'ambito del festival i pirati della bellezza organizzato dalla Caleotti editore un festival di altissimo livello che non è alla prima edizione quindi ha delle edizioni alle spalle sempre ad altissimo livello questa volta per dire c'è Marianna Aprile Carlo Cottarelli di cui abbiamo mandato in onda l'intervista che è stata realizzata da Carlo Galeotti il fondatore giornalista e fondatore della Galeotti editore oltre che direttore di Tuscia Web e dal sottoscritto questa volta di intervistare Davide Casaleggio e Carlo Galeotti con un docente dell'università della Tuscia. Temi ripeto di grande interesse da non perdere questa sera va in onda però la prima parte perché l'intervista è stata piuttosto lunga e per quanto l'abbiamo tagliata non siamo riusciti ad entrare nella mezz'ora che ci è concessa ringraziamo le reti che ci mandano in onda un po' in tutta Italia un tema però volevo sollevare mettendo da parte adesso l'intervista a Davide Casaleggio che racconta anche come nacque come nacque il blog delle stelle, l'incontro con Grillo, i risultati sorprendenti che ottennero veramente da ascoltare. Ecco dicevo una cosa che non c'entra niente perché io ho deciso visto che sento dire spesso un sacco di fesserie cioè di gente che conosce poco le cose di fare un po' di fat checking, i giornalisti dovrebbero essere messiere quotidiano cioè dire se le cose sono vere o no, se quello che dice quella tale personaggio è corrispondente alla verità oppure i dati dicono tutt'altra cosa. Un tema che mi ha appassionato e che è stato trattato dall'osservatorio conti pubblici italiani è ma noi abbiamo privatizzato la sanità o no? I dati ci dicono che non l'abbiamo privatizzata, anzi rispetto al 1995 la spesa privata nella sanità è passata dal 28,6 per cento al 25 e rotti per cento, 25,6 per cento e cosa è accaduto? È accaduto che l'Italia aveva già comunque una spesa privata nella sanità piuttosto alta perché di fronte al 25,6 per cento la Germania e la Francia sono a livelli praticamente la metà regisce qualcosa quindi chiaramente in Francia e in Germania dove la spesa complessiva per la sanità è ben più alta di quella dell'Italia la parte privata è più piccola. In Italia no, d'altronde noi abbiamo una spesa sanitaria pubblica del 6,3 per cento contro quasi il 10, 9, il 10 della Germania, della Francia e di altri grandi paesi e quindi questo è il grande tema noi non abbiamo privatizzato la sanità ma la sanità è certamente sottofinanziata qual è il rischio avverte l'osservatorio conti pubblici italiani dopo aver fornito le prove che non c'è stata una privatizzazione, un'avanzata della privatizzazione della sanità ma anzi dei passi indietro della sanità privata ma anzi alcuni passi indietro è che difficilmente il livello benché non sia altissimo abbiamo detto la spesa sanitaria pubblica è 6,3 per cento del PIL la spesa sanitaria complessiva considerando anche quella privata è il 6,7 per cento del PIL come ho detto che si confronta con oltre il 10 per cento della Francia e della Germania. Qual è però il rischio? Il rischio è che se il paese non crescerà non crescerà in maniera robusta senza cioè crescita economica robusta il non riusciremo a coprire il welfare che finora ultrastenti tagli e qualcosa siamo riusciti a coprire compresa ed anzi in primis la spesa per la sanità cioè il nostro sistema pubblico della sanità è legato a quanto crescerà il paese e l'osservatorio conti pubblici italiani lo dimostra in maniera inoppugnabile. Il tema centrale resta la crescita di questo paese che cresce poco da vent'anni cresce molto meno di quanto non siano cresciuti la Francia, la Germania non parliamo degli Stati Uniti che sono cresciuto tantissimo rispetto all'Italia ma è cresciuto tanto anche rispetto all'Unione Europea che pur non facendo lo zero virgola italiano non è che sia andata benissimo questo è il grande tema. Quindi per concludere sanità privatizzata attualmente no i dati sono chiari ma c'è il rischio che si sarà costretti a farlo se il paese non crescerà e non ci saranno quindi le risorse per finanziare la sanità pubblica. Grazie mille dell'ascolto e vediamoci questa bella intervista, la prima parte di questa bella intervista a Davide Casaleggio. Dico due parole sul festival di quest'anno i Pirati della Bellezza di quest'anno è stato diciamo dedicato come un filo rosso alla parità di genere e quindi a tutti gli ospiti comunque faremo una domanda, l'abbiamo fatta ieri anche a Cottarelli, una domanda su questa tematica e diciamo il festival ha come icona Marlene Dietrich che è stata una delle donne più valorose della seconda guerra mondiale, nel 29 parte dalla Germania perché capisce che non è più aria di stare in Germania perché un certo Hitler avrebbe preso il potere e va negli Stati Uniti, la Paramount l'assume subito come massimo livello di attrice e poi la cosa più interessante che insomma si arruola con l'esercito americano e combatte la sua battaglia da attrice nel senso che intratteneva le truppe in Africa e in Italia. La cosa più suggestiva è che diciamo gli Stati Uniti gli danno la Medal of Freedom, è la prima volta che viene data la medaglia per la libertà a una donna e la Francia gli dà la legione d'onore sempre per la stessa per la stessa per lo stesso motivo per la difesa della democrazia e della libertà me viene un po' di brivi insomma quando parlo di Marlene Dietrich a parte la bellezza totale del personaggio ma la bellezza morale del personaggio ci è piaciuto anche dedicarlo a Marlene Dietrich perché era bisessuale e io penso che al suo tempo essere aveva per cui amori maschili e femminili non c'era importanza esserlo in quel tempo forse nella Berlino degli anni venti era anche possibile ma esserlo in quel tempo degli anni trenta negli Stati Uniti moralisti noi lo vediamo adesso su internet quanto sono moralisti gli americani era una cosa difficile era una donna libera ecco era una donna straordinariamente libera che secondo me noi copre questo questo aspetto della parità di genere inteso nel senso più ampio comprende tutta la problematica lgbt io inizierei presentando david che è una persona squisita oggi ci siamo incontrati è un ci parlerà di una cosa fondamentale nel mondo si parla la frontiera è l'intelligenza artificiale abbiamo fatto un primo incontro con gino roncaglia splendido incontro c'è qualcuno che ancora mi ringrazio ogni volta che mi vede per questo incontro e ci ha spiegato diciamo l'aspetto tecnico era stata insomma abbastanza ad alto livello la la lezione quasi al livello universitario tanto è vero che a gino gli ho detto calma un attimo perché fa capire e oggi affronteremo però una tematica ancora più importante da questo punto di vista io ho voluto casaleggio a tutti i costi perché continuiamo con questo filo rosso dell'intelligenza artificiale il mondo al di là di viterbo dove l'assessorato della cultura si occupa di cose meravigliose ma non di intelligenza artificiale il mondo si occupa di questa questione perché questa è la questione del futuro il mondo cambierà totalmente grazie o per colpa dell'intelligenza artificiale e i risvolti che ci spiegherà oggi david sono fondamentali perché sarà quali come si trasformerà la politica come si trasformerà antropologicamente questo mondo come i costumi come cambieranno perché l'intelligenza artificiale porterà anche a questa a questa a questi cambiamenti io inizierei con le domande l'avvocato buonasera a tutti innanzitutto un ringraziamento all'editore cariotti a tusha web e al direttore carlo per io non ti ho presentato andreggio loese avvocato e docente all'unitus grazie a davide casaliggio per avere dato la disponibilità a partecipare a questo bel evento dei pirati della bellezza ecco prima di iniziare ecco come professore carlo mi ricordo che sono professore vorrei introdurre questo libro da professore il libro si è intitolato gli algoritmi dei poteri del potere il sottotitolo rega la seguente espressione come l'intelligenza artificiale riscriverà la politica e la società ecco che nel sottotitolo c'è un po la trama che collega i vari capitoli di cui si compone questo libro i capitoli particolari sono sette il primo è dedicato all'informazione il secondo la partecipazione il terzo la raccolta dei fondi quindi arriva il momento delle scelte l'organizzazione i nuovi diritti digitali il futuro della partecipazione civica quindi è un libro complesso suddiviso in sette capitoli e tutti ben documentati perché poi nel libro si parlerà anche delle fake news che spesso agitano la vita quotidiana ecco è invece un libro diciamo svolto scritto molto bene ma anche sorretto da un metodo rigoroso e scientifico perché le osservazioni che svolge l'autore sono sempre accompagnate da puntuali note a piedi pagina che permettono poi andare a controllare anche la veridicità di quanto viene narrato dal lavoro quindi complimenti allo scrittore davide casaleggio ovviamente lo potete poi acquistare a parte le 50 copie gratuite insomma potete quindi la premessa che il libro mi è piaciuto allora ecco volendo svolgere qualche domanda ecco il primo capitolo si si perché mi sembra che questo libro un po' dia conto di come con l'avvento della terza rivoluzione industriale quindi con l'ingresso dell'elemento digitale le cose cambiano la società cambia e anche in modo abbastanza veloce accelerato e come forse questo cambiamento digitale che al contempo anche un cambiamento epocale possa risentire di un acceleratore formidabile che è rappresentato dall'intelligenza artificiale quindi vorrei iniziare a chiedere all'autore se ci vuole ecco raccontare i primi le prime esperienze che videro la casaleggio associati occuparsi della costituzione del blog e quindi di quella bella interlocuzione che fu avviata nel tempo con Beppe Grillo va bene e grazie intanto e mi fa molto piacere di essere qua in questa splendida viterbo che non conoscevo quindi oggi ho avuto modo di vedere qualche qualche scorcio e il il tema dell'intelligenza artificiale oggi sta trasformando la società un po' come lo ha fatto l'elettricità cioè questo tipo di tecnologia stiamo parlando spesso quando si parla di digitale uno diceva i computer i telefoni eccetera in realtà l'intelligenza artificiale sta scuotendo dalle radici tanti settori economici e poi magari abbiamo modo di entrare anche nel merito di questo e e anche la società perché nel momento in cui abbiamo una nuova tecnologia che scuote così profondamente la società vediamo nuove opportunità nuove e nuove dinamiche sociali politiche eccetera ed è quello che noi in realtà abbiamo visto alla fine degli anni 2000 quando noi studiavamo tutti gli impatti del digitale sul sull'economia in realtà su perché cosa degli associati è una società di consulenza quindi studiavamo tutti i modi per utilizzare il digitale al meglio possibile avevamo visto che in realtà non era solo una questione di accelerazione dei processi che si faceva più veloce qualcosa no era qualcosa di radicalmente diverso soprattutto dal punto di vista dell'organizzazione ed è quello che poi abbiamo sfruttato su cui abbiamo costruito a partire dall'informazione quindi col blog e poi anche dall'organizzazione che era molto più facile molto più economica tant'è che siamo riusciti a gestire tutta l'organizzazione senza mai accedere ai finanziamenti pubblici almeno fino a quando ci sono stato io arrivando anche al governo del paese quindi dimostrando che non erano essenziali i finanziamenti pubblici per fare politica in Italia oggi stiamo attraversando una situazione molto simile perché abbiamo visto alla fine degli anni 2000 il connubio tra una nuova tecnologia che era digitale che al tempo era abbastanza natura che si univa a un periodo di insoddisfazione generale dovuta alla crisi economica dell'Element Brothers che aveva attraversato un po' tutto il mondo e quindi aveva reso insoddisfatte le persone rispetto allo status quo organizzare le persone e organizzazioni politiche e l'insoddisfazione delle persone si è unita in Italia ha creato quello che abbiamo portato avanti con il blog e poi col movimento in altri paesi in contemporanea abbiamo visto Mudamos in Brasile piuttosto che tutte le primavere arabe nel Nord Africa piuttosto che in Spagna gli Ignados negli Stati Uniti 99% con la protesta contro Wall Street quindi sostanzialmente dappertutto in tutto il mondo e poi ho avuto la fortuna in questi anni di conoscere poi le persone, i promotori di tutte queste realtà quasi contemporaneamente perché poi sostanzialmente dal 2008 fino al 2012 questa ondata di nuove organizzazioni politiche basate sul digitale che riuscivano a interpretare un nuovo modo di fare politica grazie al digitale oggi sto vedendo una nuova tecnologia che è l'intelligenza artificiale che è molto più dirompente del digitale ed è molto più veloce perché prima la paragonavo all'elettricità voi immaginate il mondo prima dell'elettricità e il mondo dopo l'elettricità è qualcosa di profondamente diverso sia dal punto di vista economico, sociale, politico eccetera l'unica differenza è che l'elettricità ci ha messo 48 anni dall'invenzione fino ad arrivare nelle case di tutti e quindi c'è stato un mezzo secolo di transizione tra l'epoca pre-elettricità e quella dopo perché era necessario costruire i tralici era necessario costruire tutta l'infrastruttura i motori elettrici, avvitare le lampadine e tutto il resto per l'intelligenza artificiale questo non è più necessario perché noi abbiamo già l'infrastruttura a disposizione che è quella che abbiamo costruito col digitale negli ultimi 30 anni per cui ogni nuova invenzione legata all'intelligenza artificiale in realtà noi siamo in grado di utilizzarla la settimana successiva nel tempo reale, nelle nostre aziende, nelle nostre vite quindi la vera differenza è che questa è talmente dirompente che è simile a mio avviso anche superiore all'invenzione dell'elettricità ma la vera differenza è che lo vedremo in pochi mesi in 48 mesi, non in 48 anni quindi vedremo questa trasformazione nei prossimi in paio d'anni probabilmente vedremo soprattutto la parte economica che sarà quella che toccheremo con mano da subito se immaginate i call center, prima parlavo dei call center in Italia 80.000 persone lavorano in un call center se qualcuno di voi ha giocato con un sistema ce ne sono tantissime ma Air.ai piuttosto che c'è GPT nella nuova versione che capisce anche le emozioni della persona con cui sta parlando a voce piuttosto che altri sistemi questi sono sistemi che sono molto evoluti in cui se noi siamo al telefono con questi sistemi non riconosciamo che dall'altra parte non c'è una persona e questi sistemi hanno l'obiettivo di persuaderci perché vengono oggi utilizzati soprattutto nel lato economico quindi lato call center. Adesso in Italia non li abbiamo ancora visti adottati in maniera estensiva però sicuramente lo vedremo nei prossimi mesi e ci troveremo a dover rispondere o interloquire comunque con questo tipo di innovazione e questo è un passaggio che preso l'esempio del call center impatterà qualunque call center il prossimo anno probabilmente ci penserà due volte ad assumere una persona piuttosto che prendere una tecnologia che lavora tutto il giorno si addestra continuamente non sciopera mai e sempre parla qualunque lingua quindi sicuramente questo tipo di confronto adesso ho fatto il call center ma su tutte le professioni in realtà si sta vedendo come questa tecnologia sta impattando in modo molto veloce in termini di produttività stiamo parlando del 20-30% di impatto sulla maggior parte delle applicazioni economiche già oggi quindi le aziende ovviamente se devono investire investono io ho la sensazione mi sono occupato di intelligenza artificiale in tempi antichi, 30 anni fa quando c'era l'altro paradigma diciamo di ricerca quella che viene definita intelligenza artificiale forte un programma di ricerca che poi è andato noi stavamo dentro questo programma di ricerca ma poi che non ha prodotto granché adesso con l'intelligenza artificiale generativa bisogna sottolineare che siamo agli inizi cioè la sensazione quello che vediamo oggi è chiesto per facente da molti punti di vista in realtà siamo all'anno zero ma già come diceva David già ci sono ripercussioni sul piano economico e l'accelerazione sarà fenomenale nel senso che di settimana in settimana vedremo i cambiamenti io lavoro tutti i giorni con l'intelligenza artificiale con un chat GPT-4 e mi accorgo man mano di tutte le possibilità che ha anche perché la puoi addestrare per cui diciamo è un sistema aperto questo forse dal punto di vista concettuale è l'aspetto più importante se ci spieghi e cominci a spiegarci che cosa comporterà per la politica anche ricostruendo come diceva Genovese come è nato il Movimento 5 Stelle tu l'hai vissuto proprio la nascita del Movimento 5 Stelle l'idea a chi è venuta a Grillo o a tuo padre e poi come avete implementato le tecnologie all'interno di questa cosa qui e come andremo avanti domanda delle domande cattiva ci sarà un abbassamento del livello della politica come io temo oppure come tu dici nel libro darà la possibilità a tutti di partecipare attivamente ho fatto una domanda di quelli da tre ore e mezza di risposta però se cominci se mi racconti anche però due secondi sulla nascita del Movimento 5 Stelle chi ha detto per primo 5 Stelle Grillo o tu padre? Allora la risposta è facile mio padre in realtà tutto è nato nel 2004 quando io e mio padre andammo a vedere uno spettacolo di Grillo e era molto bello poi quello spettacolo che ho visto era sì era era uno spettacolo in cui alla fine la tecnologia veniva anche demonizzata tutto è nato da quello spettacolo in realtà Beppe aveva letto un libro che aveva scritto mio padre l'aveva contattato noi eravamo andati a trovarlo avevamo visto comunque una grande opportunità al tempo di business perché noi alla fine facciamo consulenza di business legata alla tecnologia e come questa tecnologia potesse avere un impatto su tutti i settori economici e quindi anche quello dello spettacolo al tempo quello che abbiamo visto era una grandissima opportunità di comunicazione e quindi abbiamo proposto il blog l'idea del blog al tempo era qualcosa di innovativo sì di frontiera c'erano pochi blog tant'è che si parlava del blogosfera perché alla fine c'erano un insieme di blog in Italia ma erano ovviamente molto piccoli e decidemmo di proporvi quest'idea lui ci ci ascoltò e poi ci disse che costava troppo e quindi e quindi siamo tornati a casa quindi noi siamo tornati a casa e abbiamo pensato di farlo gratis siamo tornati e mi hanno detto vabbè lo facciamo gratis ci disse di sì e quindi siamo andati avanti ovviamente in cambio di una percentuale sullo spettacolo che avremmo registrato commercializzato ma sostanzialmente ci siamo presi in carico tutto il rischio di questa di questa avventura funzionò e funzionò ma era un'avventura di business ovviamente man mano che abbiamo iniziato a costruire questo blog in cui mio padre era ovviamente in prima persona nel senso che praticamente ha scritto tutti i post che potete leggere sul blog delle stelle adesso perché sono stati trasferiti lì tutti i post e i commenti abbiamo iniziato ad avere anche un altro tipo di impatto e toccare con mano anche un altro tipo di impatto che era quello dell'impatto sociale perché alla fine noi promuovevamo scrivevamo anche tanti test insomma tante ricerche sul tema sui vari temi sociali o comunque di impatto economico e vedevamo che era qualcosa di più della semplice iniziativa economica del fare un DVD e cercare di venderlo al tempo mi ricordo addirittura avevamo fatto questo contratto per cui diciamo se non riusciamo a venderne più di 600 chiudiamo il contratto riuscindiamo tutto amici come prima alla fine di quel primo DVD ne vendemmo 100 mila e quindi diciamo vabbè abbiamo trovato una strada strada giusta e con quello poi siamo riusciti a finanziare anche gli anni successivi su cui abbiamo fatto altri altri DVD eccetera l'idea del movimento in realtà è arrivata molto dopo perché è stata una crescita o quantomeno una serie di ostacoli che abbiamo trovato perché l'idea di promuovere di utilizzare uno strumento che al tempo era quello della legge di iniziativa popolare e far firmare tutte le persone per il Parlamento pulito quindi persone che non fossero condannate e che potessero rappresentarci e che possessero essere votate dal basso scelte dai cittadini insomma tutta una serie di punti che erano andati sotto il cappello di Parlamento pulito avevamo raccolto le firme per presentare questa legge al tempo ne servivano come adesso tra l'altro 50.000 in sei mesi ne abbiamo raccolte 350.000 in un weekend per cui anche lì abbiamo detto forse abbiamo trovato una via giusta questo è uno strumento che può essere utilizzato la legge di iniziativa popolare può essere uno strumento che può essere promosso e utilizzato dai cittadini per interagire con la politica al tempo era quello il nostro obiettivo anche se laterale anche se in crescendo quello che è successo però è che quella legge fu parcheggiata in un cassetto del Senato e sostanzialmente mai discussa ricordavo siccome sono stato promotore di una legge anch'io di iniziativa popolare sul diritto ai lavoratori dicappati all'epoca si usava questa terminologia e ricordo a tutti che non c'è nessuna legge di iniziativa popolare che è stata discussa in Parlamento e che è passata dal dopoguerra oggi a mio io non conosco una legge che è passata quello strumento sarebbe interessante però è chiaro che poi passa dal filtro del Parlamento noi andiamo a parlare anche con i gruppi della sinistra per fare in modo che ne discutessero non ci siamo riusciti quella legge non è passata infatti il tema della contrapposizione tra potere rappresentativo e potere diretto dei cittadini lo vediamo in tantissime occasioni in tutto il mondo nel libro cito anche qualche esempio in cui alla fine c'è sempre una contrapposizione tra il potere eletto e l'iniziativa popolare purtroppo molto spesso questa iniziativa popolare viene soffocata in qualche modo ci sono invece tanti esempi innovativi in cui la partecipazione aumenta se in Italia abbiamo più della metà della popolazione che non va a votare c'è un motivo che questa parte di popolazione pensa che andare a votare non serve perché se io vado a votare e non posso scegliere il mio rappresentante se vado a votare e qualunque cosa avrà dichiarato il politico di turno poi non la fa se vado a votare se uso gli strumenti che mi vengono messi a disposizione e vengono archiviati in un cassetto come in questo caso ovviamente le persone si disaffezionano e pensano ad altro pensano a come essere incisivi sulla propria vita e sulla propria società quindi questo è quello che oggi sta succedendo che ci sono alcuni paesi per esempio Taiwan io ho parlato molto spesso con il ministro la ministra dell'innovazione che poi ha seguito un percorso molto particolare perché è partita dal movimento dei girasoli che occupava il Parlamento quindi è un movimento di studenti che è molto visibile diciamo e è finita essere il ministro dell'innovazione tra l'altro appena riconfermato e a Taiwan si stanno sperimentando tantissime modalità per coinvolgere i cittadini direttamente nel governo uno tra tutti adesso abbiamo per esempio in Italia e lo stiamo toccando con mano che questa nuova metodologia di interazione sulla singola battaglia è possibile lo vediamo con la raccolta firme digitali cioè mentre prima la raccolta firme era comunque costosa io ne ho seguite parecchio e è laboriosa perché poi tutte le firme raccolte bisogna farle verificare bisogna avere consigliere comunale il notario insomma tutta una serie di cose che alla fine diventano costose la raccolta firme online digitali è molto economica e abbiamo visto che si possono raccogliere 600.000 firme in 20 giorni quindi io immagino che il prossimo anno vedremo tantissimi comitati che inizieranno a promuovere leggi di iniziativa popolare piuttosto che referendum a partire dal prossimo aprile io già vedo la piattaforma del governo riempirsi di questo tipo di iniziative e questa transizione che stiamo vedendo è una transizione che porta il cittadino a esprimersi su singole battaglie che è una trasformazione importante perché vuol dire che io non partecipo all'interno di un partito perché devo riconoscermi per forza in tutta quella ideologia di quella forza politica perché magari condivido qualche battaglia ma altre magari non le condivido invece in questo modo io posso agire sulle singole battaglie e questa è la cosiddetta platform society in cui io posso interagire posso promuovere idee coinvolgere le persone e con l'intelligenza artificiale tra l'altro posso organizzare queste persone con un costo molto basso quasi pari a zero quindi la struttura politica di partecipazione sta cambiando e sta cambiando sotto i nostri occhi sempre per chiudere l'esempio di taiwan a taiwan non solo ci sono le leggi di iniziative popolari o il referendum ci sono anche per esempio se si raccolgono 5.000 firme digitali quindi con poco costo si ha diritto a una risposta del ministro quindi il question time del cittadino l'interrogazione del cittadino potrebbe funzionare in Italia io penso di sì se noi iniziamo a immaginare strumenti che fanno partecipare i cittadini direttamente i cittadini si appassioneranno di più alla politica perché penseranno di poter interagire con la realtà sì Davide su questo punto a proposito di queste platform social IT nella loro differenza con i partiti nel libro si osserva ad esempio che l'intelligenza artificiale può svolgere un ruolo incredibile perché riesce a contattare le persone anche nei diversi dialetti di cui le stesse dovessero essere portatrici e quindi raggiungerle dopo averle capite che diciamo nella loro identità che tipo di destinatario del messaggio si ha di fronte ma ritornando all'intelligenza artificiale prima abbiamo detto che può svolgere un ruolo fondamentale nelle notizie false nel tema delle fake news perché nel libro è spiegato bene come le fake news non siano un problema recentissimo perché già si fa l'esempio di un ricercatore che studiando le proprietà delle spinaci crebbe di rinvenire dentro queste spinaci un certo quantitativo di ferro in realtà facciamo la domanda al pubblico quanti di voi sanno che c'è tanto ferro dentro gli spinaci tutti di alzare la mano insomma perché lo sapete perché lo sapete per braccio di ferro c'è il Popeye quindi c'è stata l'industria delle spinaci che ha fatto tanti profitti anche quando si è capito che c'era stato un errore macroscopico tutto sommato ci piaceva quest'idea dell'espinacino e quindi abbiamo continuato a mangiare il spinacino però c'era un fatto su cui si poteva non transigere il filmato il video la fotografia e l'audio erano fatti sui quali non ci poteva essere la falsa notizia perché la fotografia è quello che vedi il suono è quello che ascolti anche nelle prove in tribunale io porto la fotografia il giudice deve per forza dare rilevanza invece il problema che l'intelligenza artificiale pone che oggi si può intervenire anche sulla genuinità o falsità della fotografia prego Davide di illustrare questo aspetto che è molto particolare grazie a tutti